ciao a tutti come anticipato nella lezione precedente questa volta parleremo delle proprietà base di ogni livello cioè delle proprietà di trasformazione che sono la posizione la scala la rotazione l'opacità e l'anchor point ora per prima cosa creiamo una nuova composizione come al solito andiamo nel menu composition new composition impostiamo come le volte precedenti il preset hdtv 1080 25 che significa 1920 pixel in larghezza 1080 in altezza pixel quadrati 25 fotogrammi al secondo e impostiamo anche la durata a 10 secondi lo sfondo lasciamolo sempre nero e come nome della composizione mettiamo l'argomento della lezione che è proprietà di trasformazione diamo l'ok importiamo nella timeline della composizione per esempio una fotografia ok questa bellissima foto di ingrid berman ridimensioniamo la fotografia come ho fatto nella lezione precedente cioè clicco sul bordo della fotografia e mentre la riduco aggiungo il tasto shift in modo tale da non perdere le proporzioni della fotografia poi lascio andare il mouse e poi il tasto shift benissimo qui nella timeline a fianco al nome del livello alla sinistra c'è questo piccolo triangolino se ci clicchiamo sopra troviamo un contenitore che si chiama transform il quale a sua volta se lo apro contiene le cinque proprietà base che dicevo prima cioè nell'ordine qua compaiono l'anchor point la posizione position scala scale rotazione rotation opacity l'opacità lasciamo momentaneamente da parte il discorso sull'anchor point ci torniamo tra un attimo incominciamo dalla position la proprietà position tiene sotto controllo appunto la posizione della fotografia all'interno dell'inquadratura se io ci clicco sopra e la sposto notate che questi due numeri qua cambiano cioè cambiano le coordinate di posizione della fotografia all'interno della composizione se la sposto a mano la sposto liberamente nell'inquadratura ma io questa operazione di spostamento di cambio di posizione nell'inquadratura lo potrei ottenere anche agendo direttamente su questi due valori che sono la posizione x orizzontale questo primo numero e la posizione verticale che è il secondo numero o posizione y per modificare questo numero la cosa più semplice è cliccarci sopra con il mouse e con il mouse premuto trascinare verso sinistra o verso destra ora io lo sto facendo sul primo dei due numeri sulla coordinata x e che succede alla fotografia che si sposta o solo a sinistra o solo a destra ma non in alto in basso se volessi spostare verticalmente la fotografia dovrei invece cliccare sul secondo numero e poi trascinare se trascino a destra la fotografia si sposta verso il basso se trascino verso sinistra la foto verso l'alto per cui per fare degli spostamenti più precisi anziché spostare a mano come avevo fatto vedere anche nella lezione precedente molto spesso è meglio lavorare direttamente sulle proprietà vediamo invece per quanto riguarda la scala cosa cambia vedete che se io non aggiungo il tasto shift c'è il pericolo che vengano perse le proporzioni dell'immagine mentre se aggiungo il tasto shift come avevo fatto vedere anche prima la fotografia rimane con le proporzioni invariate ora se invece io agisco a mano direttamente cliccando sul primo dei due numeri la scala x o la scala in larghezza e trascino e la modifico il primo numero cosa succede che anche il secondo contemporaneamente si modifica e questo permette di riscalare l'immagine mantenendo le proporzioni ok non c'è bisogno in questo caso di cliccare sul bottone shift perché perché qui a fianco a sinistra dei due numeri c'è questa catena questa catena fa sì che quando io modifico uno dei due numeri anche l'altro si modifica se io invece volessi volontariamente aumentare solo la scala orizzontale e non quella verticale dovrei in questo caso particolare spegnere disattivare quella catena e poi se io lavoro solo sul primo dei due numeri allargo e stringo solo in larghezza la fotografia e se lavoro solo sul secondo la allargo e la stringo in altezza adesso i due parametri della scala parametro x e y sono indipendenti perché quella catena è stata spenta ok per riportare i due valori della scala ai valori originali e quindi risettare il valore originale basta col tasto destro cliccare sulla proprietà che si vuole risettare e dare la voce risetto la scala torna al 100 per cento della sua grandezza a questo punto posso di nuovo ricliccare sulla catena e di nuovo le proporzioni rimangono invariate proviamo adesso a vedere cosa succede quando lavoro sulla proprietà della rotazione qui ci sono due numeri un primo che indica i giri completi è un secondo che indica i gradi se io clicco e trascino sul secondo numero e comincia aumentare il valore aumentano i gradi la fotografia gira quando la fotografia avrà fatto un giro completo ok che avverrà a 360 gradi vedete che a sinistra scatta il misuratore dei giri completi ecco il significato di questo primo numero quindi la rotazione un'unica variabile un unico parametro che però viene suddiviso per gradi e giri completi io posso ruotare in senso orario aumentando i valori dei gradi e dei giri o in senso anti orario si ridiminuisco posso andare anche a valori negativi anche sotto lo 0 e questa è la rotazione oltre a cliccare trascinare si può anche cliccare sulla proprietà e scrivere manualmente il numero in questo caso voglio tornare alla rotazione 0 gradi ok quindi do il tasto 0 invio e la foto torna dritta vediamo l'opacità l'opacità di base 100% posso aumentarla no diminuirla e la fotografia come vedete comincia a diventare sempre più trasparente fino a quando arrivo al 0% dell'opacità e la fotografia è completamente trasparente non la vedo più non esistono valori negativi l'opacità oscilla tra il 0 e il 100% ora invece torniamo a discutere della proprietà anchor point l'anchor point o punto di ancoraggio è la posizione del centro della fotografia di quel punto che adesso voi vedete rappresentato da quel cerchio con la croce al momento è al centro della fotografia quel punto è fondamentale se preso in considerazione rispetto alla scala della rotazione ovvero quando io aumento e diminuisco la scala della fotografia la fotografia si rimpicciolisce o si ingrandisce intorno alla posizione di quel punto lì stessa cosa per la rotazione quando io ruoto la fotografia il perno intorno al quale ruota la foto è sempre quel punto lì il punto di ancoraggio quindi se adesso io cambio i valori del punto d'ancoraggio vediamo cosa succede se io modifico il primo dei due parametri succede questo che se diminuisco il valore del primo parametro la fotografia si sposta verso destra e l'anchor point si viene a trovare per esempio adesso sul bordo sinistro dell'immagine se adesso io per esempio riscado la fotografia il ridimensionamento della foto avviene in modo diverso di come veniva prima però avviene sempre intorno all'anchor point questo lo si nota bene quando la scala raggiunge valori vicini allo zero quando è a zero la fotografia è tutta racchiusa la posizione del punto d'ancoraggio quando si allarga si allarga da quel punto in fuori stessa cosa la rotazione prima la fotografia ruotava intorno al centro della foto adesso intorno al punto che si trova sul lato della foto quindi dove io vado a mettere l'anchor point lì avviene la scala e la rotazione proviamo a spostare l'anchor point da un'altra parte che ne so vediamo in modo che vada a finire sull'angolo in alto della fotografia a quel punto riscado la foto ed ecco che la scala avviene in questo modo e stessa cosa la rotazione naturalmente è un po scomodo il fatto che per spostare il punto d'ancoraggio in un punto diverso dal centro io devo spostare la fotografia perché variando questi valori non è l'anchor point che si sposta ma è la fotografia stessa cioè il livello stesso per cui come ovvio questo forse non è il sistema migliore per spostare l'anchor point all'interno del livello tanto è vero che ne esiste almeno un altro e andiamo a vedere come è possibile spostare l'anchor point mantenendo la fotografia ferma per fare ciò bisogna usare uno strumento apposta e lo strumento è questo strumento che troviamo nella barra degli strumenti in alto si chiama pain behind tra parentesi anchor point ci clicco sopra se vengo qui sopra la foto adesso a fianco alla freccia del mouse compare quel mirino lì se adesso io prendo l'anchor point e comincio a muoverlo questa volta la foto rimane ferma e l'anchor point invece si muove per cui posso andare a metterlo che ne so questa volta sull'angolo in basso a destra e adesso riscalando vedo che la scala avviene in modo diverso e anche la rotazione ok se voglio essere preciso quando sposto l'anchor point vicino agli angoli o ai lati o al centro se aggiungo il tasto command nei mac e control nei pc non appena mi avvicino a uno di queste maniglie qua che stanno sul bordo o anche soltanto quando mi avvicino al bordo l'anchor point viene calamitato in quei punti lì e anche quando mi avvicino al centro dell'immagine e anche nei punti chiavi nelle nelle linee che dividono a metà la fotografia e quindi ne so mettiamo di nuovo l'anchor point nell'angolo in alto a destra e rivediamo che adesso la rotazione avviene in questo modo a dir la verità per muovere l'anchor point in questi punti chiave esiste anche una palette che potete facilmente scaricare da un sito che tra un attimo vi faccio vedere la palette una volta installata la trovate nel menu window e si chiama move anchor point adesso vi faccio vedere come funziona prendiamo la palette l'avvicino qui torno a lavorare con lo strumento base che lo strumento selezione seleziono la fotografia e se clicco al centro di questo diagramma quadrato l'anchor point si sposta automaticamente al centro della fotografia se clicco nell'angolo in basso a sinistra l'anchor point si sposta sull'angolo in basso della foto quindi molto più comodo dello strumento anchor point con il tasto control supplementare quindi questa palette adesso la vado a incastrare qui e ogni volta che avrò bisogno di spostare rapidamente l'anchor point in uno di quei punti chiave angoli lati e centro userò quella palette lì questa palette qui non fa parte delle palette di after effects ma la trovate in questo sito qui batch frame e la potete scaricare gratuitamente nella pagina dove compare il video di questa lezione sotto vi metterò anche l'indirizzo di questa pagina qui dove poter scaricare questa palette una volta scaricata dovreste andare a mettere questa palette che è uno script all'interno della cartella script ui panels che si trova a sua volta nella cartella script che sta dentro la cartella che contiene il programma una volta installate riavviate after effects vi ritroverete questa comodissima palette vi consiglio di scaricarla qui nel menu window nella parte bassa qua giù ricapitoliamo rapidamente le cinque proprietà che sono abbiamo detto l'anchor point cioè il punto intorno al quale si riscala e ruota livello la posizione che mi serve per spostare nell'inquadratura il livello la scala per mi serve naturalmente per riscalare con anche il bottone qui a sinistra per mantenere le proporzioni se è acceso e se lo spengo invece perdo le proporzioni e la rotazione per ruotare e l'opacità per aumentare diminuire apacità o la trasparenza benissimo queste proprietà di trasformazione ce le hanno tutti gli elementi che io importo in after effects adesso io ho fatto una prova su una fotografia ma ce l'hanno anche i file illustrator per esempio se prendo l'automobilina anche l'automobilina se vado ad aprire a la proprietà transform stessa cosa i video quindi qualsiasi cosa ha già in sé queste proprietà non devono essere aggiunte sotto forma di effetti ma sottogliamo questi altri due oggetti un'altra cosa che magari vi può tornare utile è la possibilità di ingrandire la rappresentazione di questi punti che stanno sul bordo dei livelli è la dimensione dell'anchor point vi faccio vedere come si fa se siete su un mac nel menu after effects preferenze general se siete su un pc trovate le preferenze nel menu edit da queste parti qui quando avete aperto la sezione general delle preferenze la primissima voce gestisce la dimensione di queste maniglie per esempio io l'ho impostate a 14 probabilmente le vostre sono impostate a 5 pixel quindi se lo metto a 5 e do l'ok vedete che si rimpiccioliscono probabilmente è così che voi le vedete ma vi consiglio di metterle un po più grandi diciamo il massimo così si vedono bene ecco fatto bene questa era l'ultima cosa che volevo dirvi per questa lezione la prossima volta vedremo come animare queste proprietà lavorando con i keyframe quindi per oggi è tutto ciao e alla prossima